Il taglio della torta per la proiezione inaugurale del cinema con l'anteprima del primo Natale di Ficarre Picone ha visto la presenza del prefetto Maddalena De Luca, dell'assessore regionale Cristiano Corazzari, del vice sindaco di Rovigo Roberto Tovo, insieme all'amministratore delegato Andrea Stratta e al proprietario del centro commerciale Giuseppe Squillano. Andrea Stratta e al proprietario del centro commerciale Giuseppe Squillano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno il potere di trasformare le vite degli altri. Di cambiare in meglio la loro storia. E' allora che diventano parte della nostra. Per sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.